L'Epifania con l'arrivo dei Magi a Betlemme conferisce alla festa un respiro di universalità, lo stesso respiro della Chiesa che desidera che tutti facciano esperienza dell'amore misericordioso di Gesù. Lo ha ricordato Papa Francesco all'Angelus, nel quale ha evidenziato come i Magi e i Pastori accorsero a vedere il Bambino guidati dai segni del Cielo. Entrambi, ha sottolineato, invitano ad avere cuore e menti aperte all'orizzonte di Dio, a rispondere con prontezza e generosità ai Suoi messaggi. Oggi per noi ha soggiunto il Papa la stella e il Vangelo, la luce che guida verso Cristo. L'esperienza dei Magi ci esorta a non accontentarci della mediocrità, a non vivacchiare, ma a cercare il senso delle cose, a scrutare con passione il grande mistero della vita e ci insegna a non scandalizzarci della piccolezza e della povertà, ma a riconoscere la maestà nell'umiltà e saperci incinocchiare di fronte ad essa. Al termine dell'Angelus il Papa è invitato a pregare per i fratelli e sorelle dell'Oriente cristiano, cattolici e ortodossi, che domani celebrano il Natale del Signore. Grazie a tutti.